Signore, buongiorno a tutti, eccoci di nuovo qua. Oggi parliamo di un argomento che è di grande interesse per buona parte del pubblico, ma di scarsa conoscenza e di ancora minore comprensione, ovvero sia il Trust. Il Trust tutti più o meno sanno grosso modo che cos'è, molti però pensano erroneamente che sia un istituto nato per tutelare un patrimonio dalle pretese dei creditori. Così non è. Il Trust è uno strumento che può avere, se rispetto a determinati requisiti, un effetto segregativo del patrimonio, ma non per tutelare il disponente, il settler, ovvero sia colui che originariamente era proprietario e tuttora rimane ed è proprietario dei beni, ma deve servire per ottenere uno scopo lecito e meritevole di tutela, secondo l'ordinamento giuridico attuale. Mi spiego meglio. Se io costituisco un Trust per mantenere agli studi i figli minori, sicuramente è un Trust lecito. Se io faccio un Trust per mantenere un anziano genitore nelle migliori cliniche o pagare di tutta l'assistenza di cui possa avere bisogno, è assolutamente anche questo un Trust lecito. Devo però farlo in tempi innanzitutto non sospetti, ovvero sia quando non ho posizioni debitorie aperte. Devono sussistere veramente e realmente queste condizioni e la figura del disponente deve essere assolutamente contraria e diversa da quella che sarà poi il Trust, ovvero sia l'amministratore del Trust. Non posso anche uccidere e oggi mi sono messo qua perché vi voglio leggere anche un po' di giudisprudenza proprio tratta dalle ricerche che abbiamo fatto da cui possiamo capire meglio nel dettaglio quello che intendo dire. Abbiamo una sentenza molto recente di quest'anno, nel 2023, della Cassazione che dice che la nullità del Trust autodichiarato in cui il disponente, Trusti e beneficiario coincidono e spesso vengono da le persone con dei documenti del genere, ovvero sia che si sono fatti un Trust autodichiarato, più delle volte fatto da loro, senza neanche l'autentica notarile con pretesa che abbia anche validità, e sono disponente, ovvero sia colui che dà i beni in Trust, Trusti, ovvero sia l'amministratore del Trust e anche il beneficiario e pretendo che questi beni abbiano un valore e una rilevanza. È evidente che non la possono avere, non servono a nulla, costa poco il Trust, costa poco perché non si pagano neppure le imposte e questo dovrebbe però farvi ragionare. Non paghiamo imposte ipotecari e catastali perché? Perché non c'è un effetto traslativo del patrimonio. Il patrimonio rimane del disponente, quindi non essendoci un effetto traslativo non si pagano imposte e questo è un grosso limite perché significa che il bene rimane nella disponibilità del disponente. Eventualmente, e se saranno rispettati le determinate rivisite, potrà andare nella disponibilità del beneficiario, se e non è detto. Molti pretendono di fare coincidere al beneficiario con il disponente, addirittura con Trusti. E' chiaro che è tutto nullo. A questo riguardo pensiamo infatti alle sentenze anche molto recenti, sempre perché qua non è tanto l'Avvocato Bertaccia che deve parlare, ma è la giurisprudenza, che è quello che effettivamente rende obiettivamente quello che è la forza di un istituto giuridico in Italia che è sempre stato malvisto dalla giurisprudenza ed è sempre, spesso, non sempre, ma è spesso stato annullato, ma perché? Non perché sia uno strumento di per sé non valido, è giuridicamente valido, ma viene utilizzato in maniera completamente difforme dallo scopo per cui nasce. Nasce per preservare un patrimonio a beneficio di persone bisognose, non nasce per far scappare dalla responsabilità patrimoniale un soggetto obiettore. Questo bisogna rendersene conto. Una fra le tanti, Corte d'Appello di Lecce, 20 novembre 2020, quindi molto recente. La leggo proprio perché è importante riconoscerla. La strata liceità dello scopo per il quale viene istituito Trust, ovvero sia a ricarare a beneficio alla sorella del disponente, e a consentire a lei e al disponente medesimo di abitare negli immobili inclusi nel fondo e dati in Trust, non è sufficiente a tenere il Trust al riparo dell'azione revocatoria. Infatti viene revocato tranquillamente ai sensi dell'articolo 2901. E su questo non ci piove. Il Tribunale di Roma, il Trust, l'esivo dei diritti e delle aspettative dei creditori e del disponente, non è nullo, perché l'ordinamento appresta in favore di costoro dei rimedi speciali. Il fatto che il Trust sia maturato interamente nel contesto familiare non costituisce neppure questo indice della simulazione dell'operazione. Quindi il Trust sarebbe teoricamente valido, dice il Tribunale di Roma, però è revocabile ai sensi sempre dell'articolo 2901 il conferimento in un trasfamiliare posto in essere dal disponente debitore successivamente alla pubblicazione della sentenza di condanna al pagamento del debito. Perché molte volte queste cose vengono fatte purtroppo in maniera molto avventata e solamente quando si è creato un evento dannoso. non vale, non serve a niente, buttate i soldi, li sciupate e rischiate anche una denuncia penale in senso dell'articolo 388 del Codice Penale. Per inottemperanza dolosa a un ordine del giudice perché voglio fare in modo di non ottemperare una sentenza che esiste già o che si sta creando, che si creerà stante il fatto che io so di essere debitore, quindi mi disfo del patrimonio solo per questo scopo qua. un'altra sentenza e poi non va a nulla più vi leggo il dispositivo soltanto qua siamo alla Corte di Cassazione sì, sto guardando, certo anzi no, Tribunale di Nola, scusatemi, 14 maggio il trasto è nato dal titolo gratuito per cui ai fini dell'azione revocatoria è sufficiente il solo eventus danni che sussiste ove tutti i beni immobili dei debitori siano stati conferiti in patrimonio separato in poche parole se avete bisogno di tutelare un diritto di una persona che sia meritevole tutela la persona e il diritto di Costei davanti all'ordinamento giuridico vigente il trasto è bene abbiamo già parlato il figlio minore, il figlio disabile l'anziano che deve garantirsi uno stile di vita adeguato anche il maggiorenne che debba avere i mesi idoni per poter studiare e per poter essere magari anche promosso non solo limitarsi a dire di studiare e poi non fare niente in tutti questi casi il trasto sicuramente ha la sua valutità ma usarlo come strumento per far scappare il patrimonio da dei creditori non serve a niente viene revocato inesorabilmente e quindi si sono persi tempo e danaro inutilmente se avete bisogno di una reale tutela patrimoniale con tutti i limiti temporali soprattutto su questo non mi stancherò mai di dire ma tutto va fatto quando uno non ha debiti altrimenti vi revocano tutto ma una vera tutela patrimoniale deve servire a tenere non tanto un vincolo su un patrimonio quale è il trasto ma a avere un effetto traslativo ovvero sia colui che possedeva i beni che vuole tutelare non li deve possedere più non devono essere più suoi devono essere di altri soggetti ai quali eventualmente lui può fare riferimento in un modo o in un altro ma sicuramente il patrimonio non deve essere più nella sua disponibilità perché altrimenti viene tutto inesorabilmente revocato e soprattutto queste cose vanno fatte quando si è in bonus per usare un linguaggio giuridico un po' antico ma tuttora attuale perché è la parola che usa nelle sentenze ovvero sia il disponente non deve avere debiti con nessuno neanche potenziali in quei casi la butela patrimoniale diventa perfetta e inattaccabile diversamente è sempre claudicante nel caso del trust è assolutamente e facilmente revocabile quindi se avete bisogno di tutte le patrimoniali serie sappiamo come farvele fare se avete bisogno di trust in queste determinate condizioni di fattibilità di cui vi ho parlato altrettanto continuate a seguirci e iscrivetevi al canale arrivederci e iscrivetevi al canale